Musica 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 Maryna Jagodica Serena Pozdrawi mi w medzie muru Dragoga Musica 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 La mia moglie ci accettano La mia moglie ci accettano La mia moglie ci accettano Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie! Sì, 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 sì. Oh, c'o, 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 c E per la sandra, sova, sov, maika mene dava Maika sandug dava, mene ne udava Maika sandug dava, mene ne udava Wojciech koco co co cer maga, czerwene jabłko Ibre ić idę zastaha I recorded ony sani e di dati. Pitala sam, prasala sam, tatko mi ne dava. Pitala sam, prasala sam, tatko mi ne dava. Tatko, oj, že dava, mi ne ne udava. Tatko, oj, že dava, mi ne ne udava. Na setiženje, na svetiženje. Pojadno ne dam, ne dam. Zdrašte. Zdaná ne, že dva je tudi netopka. Kaj je tam ikonová špatnina. To, akko je to tajem. In več? Per esempio, non ho Stani rado, non ho Stani rado. Oggi andiamo, guarda. Guarda è uggetto. A tu è come giusto è buona. CFF21 è miei di ultimo. Guarda è già. Guarda è giusto. Guarda è giusto. Guarda è giusto. No, no, no. Grazie a tutti. 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 a tutti.